TURLUTURLUTURLUTURLUTURLUTURLUTURLUTURLU andiamo su fasmofobia Sì a normale. Vediamo anche l'osso. Vogliamo misurare. Cazzo è basso. Si è 1. E' abbastanza bassino. 5,0 è qua. Cerchiamo l'osso velocemente. I posti più ovvi. Ok. Torniamo in tantina. Mi sfidiamo ancora qua. Ok si è qua. Speritello. Non fare più il monello. Mettiamoci qua. Ok. Non c'è già le cose. A quanto pare. Mettiamoci qua. Ok. Mettiamo la luce. Via via via. Via via. Via via. Via via via. Via 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 via. Via via. Via 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 via. Via 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 via. A volte rimane un po' paccato. 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 un pattillo lì vediamo se lo troviamo cosa deve essere no va bene lì no 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 no